Governatore Zaia, come commenta il discorso del Presidente della Repubblica? Tanti temi toccati, ma non quello principale, che è quello dell'autonomia, di quello che sta a cuore a noi, visto considerato peraltro che a livello nazionale, alla Camera, si sta modificando la Costituzione, svuotando letteralmente di competenza le Regioni, introducendo una clausola di supremazia statale e quindi riportando in auge il centralismo. Spero che questo Presidente non sia un centralista, ma sia un federalista, però dal discorso qualche dubbio mi viene. Più di qualche dubbio, visto che ha parlato di più unità nazionale, ma non ha mai toccato proprio la parola autonomia. Ma guardi, gli esperti di federalismo ci dicono che il movimento federalista è un movimento centripeto, cioè unisce i paesi, vedi la Germania ad esempio, il movimento non federalista, quindi centralista, disgrega i paesi. Il Presidente della Repubblica dovrà decidere come interpretare la Costituzione. Un suo predecessore, Einaudi, che è stato il secondo Presidente della Repubblica, diceva nel presentare la Costituzione ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Questo non è mai accaduto.